ciao sono alberto farronato uno dei maestri snowboard a san martino di castrozza oggi andiamo a vedere come fare un frontside bowslide le fasi per eseguire questo trick sono una buona rincorsa un piccolo holly per andare sopra il box una piccola shiftata all'inizio anche 45 gradi possono bastare per poi arrivare successivamente ai 90 una fase d'atterraggio dove noi ci prepareremo al landing con un piccolo holly in uscita ammortizzando il piccolo salto ciao a tutti ci vediamo al san martino il suo parco ciao